Ehi, forza. Prendete tutto. Andiamo. Riproviamoci. Una settimana fa la mia vita era una corsa contro il tempo. Sono qui per aiutarla, ok? Che sì! Ma in un momento, tutto è cambiato. Andiamo! Bentornata nel mondo dei vivi. Io non riesco a spiegarmelo. Sapevo che sarebbe morto. Credo di vedere il futuro. New York City ha raggiunto il livello massimo di follia. New York City ha raggiunto il livello massimo di follia. È un'emergenza, scendete subito! Quell'uomo vuole uccidervi. Cosa? Che sta succedendo? Io vedo il futuro. Questo non l'ha previsto? Non funziona così. Quell'uomo è Ezekiel Sims. Era in Amazonia insieme a mia madre quando studiava i ragni. Ecco chi sei, vivi nel mio palazzo. Tu sei il paramedico. Sì, e mi hai quasi messa sotto. Non è un po' strano? Siamo tutte collegate. Sinceramente, di tutta la giornata questa è la cosa meno strana. Non ho idea di chi siano quelle ragazze. Lui vuole cambiare gli eventi. Se volete vivere, fidatevi di me. Giulia, sta giù! Lui vuole cambiare gli eventi.